Ehi! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo io sono Mr. Mario e oggi siamo qua, tornati su Clash Royale Comunque ragazzi vi invito a vedere lo scorso episodio, se non l'avete ancora visto, troppa roba, abbiamo vinto con 61 di XP alla Torre della Corona, troppa roba Allora, questo video lo sto registrando appena dopo che ho finito lo scorso episodio, quindi ancora si sta sbloccando il baule d'oro Comunque, oggi punto ai 630 trofei ragazzi, 630 so che è tanto, però ragazzi si può fare, si può fare, cosa che ho detto anche l'altra volta Infatti abbiamo fatto il devasto totale, mi sa che stavolta è lui che fa il devasto totale ragazzi eh, solo per dire eh Ecco infatti, quello che avevo appena detto, eh No cavolo raga, no no no, dai dai, fate cavolo danno, fate danno, fate tanto tanto danno Guarda chi? Madonna mia, madonna mia, madonna mia, che bello scontro, epicissimo, incredibile, eccezionale, chi è? Youtube, ok sarà stato Lucchino che ha caricato un nuovo video, ah no Vince Games ha caricato un nuovo video, ricordatevi che trovate il suo canale nelle mie iscrizioni 563 trofei, due partite e arriviamo a 600 trofei ragazzi, perché non ce la facciamo in una partita sola, sicurissimo di questa cosa 8, 9 Schiaffiamo il nostro solito, la nostra solita combo La usiamo sempre, perché non usarla anche ora, perché non do Quanto sei infame, io stavo per mettere gli arcieri No, vabbè, mi ha buttato giù solo così 1 a 0 per noi Pum, gli abbiamo ucciso il tutto 1 a 0 per noi, lui non ci ha ancora fatto danno, eh Non ci ha ancora, ora ci fa danno Ora sì che ce lo fa il danno comunque io mi sto prendendo un po' di di elisir ho sbagliato a mettere i goblin certo che ho una mira proprio epica oh ragazzi non è che gli schiaffiamo la combo adesso gli abbiamo schiaffato la combo gli abbiamo messo davanti la combo gli abbiamo messo la combo ti uccido no troppo epico no troppo epico rega epico boom ok bombarolo incredible fa un danno incredibile contro l'orda di scheletri altro che valkyrie e valkyrie ma va ma altro che valkyrie e valkyrie ma mettetegli contro il bombarolo boom tre colpi fuori ciao ciao arrivederci merci gesua eeeh ai mai più rivederci a e de de ciao ok vabbè eeeh 593 trofei io ve l'avevo detto 7 trofei di distanza dai 600 trofei eh e siamo solo a 3 minuti eh siamo solo a 4 minuti prossima partita stavolta non abbiamo il cucciolo di drago quindi cambiamo combo speriamo di avere siamo abbastanza in tempo per mettere il bombarolo no ci metto qua gli arcieri che fanno tanto danno l'avversario ha lasciato lo scontro oddio troppa roba ha lasciato lo scontro ha lasciato lo scontro troppo forte no regà non ci credo ha lasciato davvero lo scontro non ci posso credere ma chi è così oh intanto 2015 conformed l'anno degli anni proprio è uscito anche in clash royale si vede che è l'anno degli anni vabbè col principe andiamo a vincere boom 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 andiamo a vincere e andiamo a vincere anche sta partita 3 a 1 stavolta no 3 a 0 scusate dove l'ho visto l'uno che non lo so vabbè credo che ci arriviamo di questo passo credo che ci arriviamo anche ai 650 adesso che ci credo adesso che ci penso se facciamo 29 trofei arriviamo ai 650 proprio easy easy speriamo che questo lascia lo scontro magari ah è livello 3 quindi è da poco anche lui in arena 6 e ne ha più di noi questo prova che non siamo poi i più forti di sempre vabbè però mi meno male gli avevo messo il bombarolo io gli avevo messo il bombarolo no vabbè no vabbè no vabbè è morto il gigante poi alla fine no vabbè è morta praticamente è morto è morto a tutti vendendo a volontà i reggiquitte costano solo un po' di trofei e siamo sopra i 50 addirittura siamo solo a 6 minuti e mezzo di video se faccio altre due partite così ragazzi arriviamo a 700 trofei anche di più cioè non ci sto credendo questo vince è turchese è turchino è turchese cosa sto dicendo io pure io pure un po' suonate oggi prima mettergli cose economiche ma che cavolo anche lui mette cose economiche mi sa anche troppo economiche dai che morite dai che muori male ok è morto male come volevo io ok ok baby ok meno male così non ci ha fatto niente di danno e anche noi gli abbiamo fatto ben poco di danno no ora ci fa un sacco di danno cavolo e noi contrattacchiamo così sempre così contrattacchiamo ti uccido il suo piano era quello di farmi andare sull'altra corsia col principe ma non ci è riuscito ragazzi ebbene sì non ci sei riuscito sì ho fatto pure rima la 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 bella no bruttissima bruttissima no non ci voleva manco questa mi sa e ti deve morire il cane ok no ora ragazzi contrattacco sicuro da parte dell'avversario ecco infatti però non ce la fai lo stesso ragazzi 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 oggi siamo micidiali siamo micidiali 33 trofei non mi immagino cosa mi avrebbe dato di di baule magari anche il super magico eh non ci posso credere oggi quanto siamo micidiali ragazzi siamo solo a 8 minuti lo so oggi oggi faccio rage quittare tutti ci manca pochissimo se vinciamo sta partita 700 assicurati facciamo più di quanto abbiamo fatto in tutta la serie ti prego clash royale ti prego non mi mandare contro un veterano magari questo è un veterano di clash royale che sta utilizzando il suo secondo ok questo è un veterano di clash royale tu mi vuoi umiliare zi seriamente vuoi davvero umiliarmi 600 di vita cosa 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 non ci sto credendo regà non ci non ci voglio credere 2 a 0 2 scusate 2 a 1 madonna mia madonna mia madonna mia no abbiamo perso questa ragazzi lo sapevissimo lo sapevissimo che perdevamo ragazzi mi dispiace peccato è stata una così bella partita stavo anche dominando in realtà guarda quella decenebrata che c***o non ti pago ma che cosa fa quella ma perché non gli tira i colpi ma quella è una decenebrata 10 10 trofei siamo tornati a 675 ce ne vogliono 25 per arrivare in arena a 700 trofei cosa ho detto non lo so manco io no il bombarolo no è morto subito è sotto i mille andiamo andiamo a vincere ma stiamo davvero vincendo io ti schiaffo quello al 2 tu mi schiaffi quello all'1 io ti schiaffo quello al 2 che è anche più forte e ti uccide tutto però ora lo uccidi sinceramente cioè 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 è indispensabile il cucciolo di drago in queste situazioni indispensable indispensable ragazzi indispensable ok hai iniziato a colpire dove volevo ma perché la gente è così crudele ma perché sei così crudele c'hai anche più trofei di me ma zi ma zi ma zi ma da ma 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 ha lasciato lo scontro pure questo non ci voglio credere rage quit di nuovo tu stai male zi tu stai male in qualche modo mentale tu stai male malissimo allora ragazzi se ora perdiamo no regà dai non si può perdere non adesso non adesso sì 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 piangi adesso piangi piangi ci hai ripensato ma era troppo tardi perché ormai siamo a 700 trofei e andiamo nel prossimo episodio a prenderci l'arena 3 ragazzi perché ci mancano solo 300 trofei all'arena 3 va bene ragazzi con questo finale da paura io vi lascio qui se il video vi è piaciuto lasciate un like qua sotto iscrivetevi al mio e al canale di Lucky No King che trovate in descrizione e noi ci vediamo alla prossima ciao ragazzi